Un ancla immutabile Prima di iniziare il nostro studio questa mattina, chiediamo a Gesù, come sempre, di benedire lo studio della Sua parola. Quindi vi invito a chinare il vostro capo per pregare. Nostro Padre, nostro Dio, grazie per averci dato la vita anche oggi. Grazie per il privilegio di essere figli e figlie Tuoi. Grazie per la Tua parola, che è una guida sicura in un mondo di confusione e di ribellione. Ti chiediamo questa mattina, aprendo il Tuo libro sacro, che lo Spirito Santo, colui che lo ispirò, possa venire a spiegarcelo. Ti rendiamo grazie per ascoltare le nostre preghiere. Ti chiediamo ciò nel nome di Gesù. Amen. Iniziamo il nostro studio di oggi partendo dalla Genesi al capitolo 2, versetto 7. Come potrete vedere, il titolo del nostro studio odierno è L'ora del giudizio divino. Quelli che erano presenti ieri sera si ricorderanno che abbiamo parlato del concetto globale del giudizio nella Bibbia. Abbiamo visto come il giudizio è costituito da tre tappe o fasi. C'è una tappa prima della seconda venuta di Gesù, c'è una tappa durante il millennio e c'è una tappa dopo i mille anni. Ciò significa che il giudizio non è un evento, bensì un processo. È un processo lungo, che dura secoli e secoli. Dobbiamo tenere bene a mente ciò quando parliamo del concetto biblico del giudizio. Ora, questa mattina ci focalizzeremo specificatamente sul giudizio precedente, la seconda venuta di Gesù, meglio conosciuto come il giudizio investigativo, o anche come giudizio pre-avvento. Questo è il giudizio menzionato in Apocalisse 14, 7, dove dice Temete Dio, dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è giunta. La fase del giudizio che lì si sottolinea è quella precedente e la seconda venuta di Gesù. Genesi 2, al versetto 7, parla della creazione dell'uomo e alcuni di quelli che sono avventisti da molti anni, si chiederanno perché il pastore Bohr parla del giudizio e poi si mette a leggere un versetto che parla della condizione dei morti, della composizione materiale dell'uomo. Possiamo vedere come ci sia una relazione stretta tra la dottrina biblica del giudizio e la dottrina biblica di ciò che succede quando una persona muore. Queste due dottrine sono inseparabili, quella del giudizio e quella della condizione dei morti, e ciò lo andiamo a vedere chiaramente nello studio della parola di questa mattina. È importantissimo che lo comprendiamo. È molto significativo e importante comprendere quel che succede quando una persona muore, perché la Bibbia ci dice che negli ultimi giorni Satana utilizzerà lo spiritismo, il cui fondamento è l'idea dell'immortalità dell'anima, per ingannare la maggioranza degli esseri umani. Per questa ragione è importante che sappiamo tutto quello che riguarda il giudizio e che sappiamo chiaramente tutto quello che la Bibbia insegna sullo stato dell'uomo nel periodo di transizione relativo alla morte. È scritto in Genesi 2,7. Allora, l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Ciò significa che fisicamente l'uomo è composto da polvere. Dio fece la pelle, Dio fece gli organi, Dio creò le ossa, Dio creò i muscoli, cioè Dio utilizzò la terra per creare la composizione fisiologica del corpo umano, ma dopo che Dio creò il corpo umano, questo era un corpo perfetto, un corpo meraviglioso, ma si trattava di un corpo senza vita. Non si può dire che si trattasse di un corpo morto, perché non esisteva la morte, ma era un corpo senza vita, mancava qualcosa. Pertanto, continua dicendo al versetto 7. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito di vita, cioè Dio diede a questo corpo la capacità di respirare, gli diede la carica vitale e adesso questo corpo che era inerte, che era senza vita, inizia a vivere e così questo corpo inizia a funzionare. Gli occhi iniziano a vedere, le orecchie iniziano a udire, inizia a funzionare il tatto, inizia a funzionare il gusto. Quindi i cinque sensi del corpo umano iniziano a funzionare assimilando informazioni dall'ambiente circostante. È come dire che l'uomo è composto fisicamente da polvere, ma l'energia vitale, il respiro, rappresenta la persona, quella che la Bibbia chiama anima, cioè la Bibbia chiama la persona anima, come dice l'ultima parte del versetto 7. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Cioè tutti noi siamo anime, siamo persone, siamo esseri viventi. Voglio che ora facciate caso al fatto che le persone sono composte fisicamente dalla polvere e dall'energia vitale che Dio ci ha concesso. Ora, Adamo, quando fu creato, non aveva la stessa identità, la stessa caratteristica, la stessa personalità di quando morì a 930 anni. Quello che vi voglio chiedere è, credete che Adamo avesse una personalità molto più complessa a 930 anni rispetto a quando fu creato? Credete che Adamo avesse un'identità personale molto più marcata quando morì, dopo 930 anni di vita, rispetto a quando fu creato? C'è di più. Dio non crea l'uomo con il carattere. L'uomo forma il suo carattere con il passare del tempo, attraverso quello che lascia entrare tramite gli occhi, le orecchie, il tatto, l'olfatto, cioè attraverso i cinque sensi formiamo quella che è la nostra identità personale, formiamo il nostro carattere, formiamo la nostra personalità, la nostra individualità. In pratica siamo quello che lasciamo entrare in noi tramite i cinque sensi. E quando Adamo morì dopo 930 anni, aveva una personalità complessa, composta da tutto quello che lui aveva permesso lo penetrasse attraverso i cinque sensi durante i 930 anni. Ciò significa che Adamo, alla fine, aveva accumulato una storia di 930 anni, con memorie, con sentimenti, con azioni, pensieri, parole accumulate in tutto questo periodo lungo 930 anni. Allora, cosa succede quando una persona muore? Andiamo al libro di Ecclesiaste, al capitolo 12, versetto 7. Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 7, dove ci viene spiegato il processo contrario a quello della creazione. Abbiamo letto in Genesi 2,7 che Dio creò l'uomo dalla polvere della terra, soffiò nel suo naso un alito di vita, così che l'uomo diventò un essere vivente. Ora vediamo quello che succede nel processo contrario. In Ecclesiaste 12, al versetto 7, è scritto Quello che vi sto per dire ora sorprenderà tutti voi, anche gli avventisti. Lo spirito che ritorna a Dio, come dice qui, non è solamente l'alito di vita, non è solamente la forza vitale o la respirazione. C'è qualcosa in più che andiamo a vedere a breve nel nostro studio e che ha a che fare con la parola spirito. Ora, non spaventatevi, voi che siete avventisti già da parecchi anni, perché non sto per dirvi dei concetti eretici. Credo sempre nel concetto di morte, così come ce lo insegna tradizionalmente la chiesa avventista, ma credo c'è un aspetto che non abbiamo sottolineato a sufficienza, ne abbiamo trattato in maniera chiara. Pensate ora a quello che succede nel momento della morte. Il corpo ritorna alla terra, la respirazione esce dal corpo, cioè spiriamo e come risultato di ciò il corpo smette di funzionare. Però ora vi sottopongo a una domanda che molto probabilmente nessuno vi ha mai posto. Cosa succede? Riferendoci al caso di Adamo, cosa succede con i 930 anni di conoscenze personali che Adamo sviluppò durante il suo percorso di vita? Cosa è successo con i caratteri di Adamo quando egli morì? Cosa ne è della sua identità personale? Cosa succede della sua personalità e cosa succede con il registro di tutta la sua vita quando egli morì? Tutto quello che egli ha permesso di far entrare attraverso i propri occhi, attraverso le proprie orecchie, attraverso il tatto, attraverso il gusto, attraverso cioè i suoi cinque sensi e il cumulo di tutto quello che compose il suo carattere o la sua identità personale? Che ne è stato di tutto questo quando Adamo morì o quando noi moriamo? La risposta della Bibbia è molto semplice. Sapete che Dio ha da parte un registro nel cielo con dentro ogni singolo dettaglio riguardante le nostre vite? Ogni istante della nostra vita, ogni parola, ogni azione, ogni emozione, ogni motivo, ogni pensiero, ogni accadimento dall'istante stesso in cui esso accade, Dio registra tutto quanto in quello che la Bibbia chiama i libri celestiali. È come dire che Dio ha con sé una fotocopia di ogni essere umano. Non gli manca niente. Dio proprio adesso, con una tecnologia che io stesso non riesco a comprendere, sta annotando nel cielo ogni parola che io sto dicendo. Di più, Dio sta annotando non solo le parole che dico, ma anche i pensieri che sto formulando prima di esternare le parole. Sta annotando la forma con la quale guardo ogni persona qui riunita questa mattina. In pratica, Dio registra nei libri celesti ogni dettaglio della mia vita, dal momento del mio concepimento fino all'istante della mia morte. Ciò significa che c'è un altro Esteban Bohr in cielo, ma in forma scritta. Vi voglio far capire bene tutto questo, affinché non diciate poi che il pastore Bohr sta insegnando che si trova in due posti contemporaneamente, perché non è quello che intendo. Quello che voglio dire è che mentre io sono qui fisicamente, Dio ha un registro esatto con annotato chi sono io in cielo, nei suoi libri. Ora, voglio sottolineare la parola libri, plurale. I libri, quando nella Bibbia parla di libri al plurale, sta parlando del registro della nostra vita, perché Dio ha con sé un libro con le nostre opere, un altro con le nostre parole, un altro con le nostre motivazioni, un altro ancora con le nostre emozioni, un altro ancora con i nostri pensieri. In pratica Dio ha con sé la fotocopia della nostra vita in libri, dove non vi manca neanche un solo dettaglio. Vediamo ora alcuni testi biblici. Apocalisse capitolo 22. Apocalisse capitolo 22, versetto 12. Qui parla delle nostre opere. Sta parlando del ritorno di Gesù. Ecco, io vengo presto, e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto. Se egli ci ricompensa secondo le nostre opere, significa che deve avere con sé un registro con queste opere. E possiamo vedere in Apocalisse 20 come lui ha con sé un registro esatto di tutte le nostre opere, di tutte le nostre azioni, che sono lì scritte senza che ne manchi neanche una. Fate anche attenzione a ciò che ci dice la Bibbia relativamente alle nostre parole. Nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 12, nei versetti dal 34 al 37. Matteo, capitolo 12, versetti dal 34 al 37. Qui parla delle nostre parole. Qui ci dice il nostro Signore. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Se Dio prende in considerazione le nostre parole, lo fa perché le nostre parole sono registrate, sono scritte. In Ecclesiaste al capitolo 12, nei versetti 13 e 14, viene detto che Dio non solamente possiede un registro con tutte le nostre azioni, ma conserva un registro con tutte le cose segrete, siano esse cose buone o cose malvagie. Dio ha con sé un registro con ogni pensiero. Gesù disse che chiunque guardi una donna col fine di desiderarla, egli commette adulterio nel proprio cuore. Ciò significa che Dio conserva nel proprio registro anche tutti i nostri pensieri malvagi, che non necessariamente si traducono in fatti. Sapete che la Bibbia ci dice nel Salmo 56, al versetto 8, che Dio conserva addirittura un registro con le lacrime che versiamo ogni volta che piangiamo. Ogni lacrima è registrata nei suoi libri. Ci dice nel Salmo 56, Dio ha con sé un registro esatto riguardante noi, a cioè una biografia completa della nostra vita. Quello che ritorna a Dio non è soltanto il nostro respiro, perché in fin dei conti non è l'unica cosa che interessa a Dio. Quello che ritorna a Dio non solo quando moriamo, perché quando moriamo il libro viene chiuso, quello che ritorna a Dio in ogni istante della nostra vita è il registro delle nostre azioni, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre intenzioni, delle nostre motivazioni, delle nostre parole. Tutto ciò viene registrato all'interno di questi libri. Lì abbiamo una fotocopia delle nostre persone. E ora vedremo come Dio abbia un proposito molto speciale per il quale mette da parte questo registro per ognuno di noi. Potremmo illustrare tale concetto in questa maniera. La mia persona ora è qui, sulla terra, ma nel cielo sono dentro a un libro o a dei libri. Il Signore Gesù Cristo invece si trova personalmente in cielo ma sulla terra si trova in un libro. In pratica io mi trovo in due posti alla volta. Qui sono personalmente ma il registro della mia vita si trova nei libri celesti. Cioè i libri contengono la fotocopia esatta della mia vita senza che manchi nulla. Ma allo stesso tempo la Bibbia parla di libro al singolare. I libri contengono i registri della vita, i quali contengono il libro, singolare. Venite con me in Filippesi al capitolo 4, versetto 3. Parliamo adesso del libro perché non possiamo comprendere il giudizio senza comprendere prima la differenza fra i libri e il libro. Lettera ai Filippesi capitolo 4, versetto 3. Qui l'Apostolo San Paolo sta parlando di alcuni dei suoi collaboratori presso il suo ministero. Dice qui prego anche te vero compagno soppieni a queste donne le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera i cui nomi sono nel libro della vita. Cosa guardate anche Apocalisse al capitolo 3. Apocalisse capitolo 3, versetto 5. Apocalisse 3, versetto 5. Altro riferimento a ciò che contiene il libro, al singolare. Qui c'è un messaggio riferito alla chiesa di Sardi e dice quanto segue. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al padre mio e davanti ai suoi angeli. Ciò significa che il libro della vita contiene nomi. I libri invece contengono i registri con le azioni della nostra vita. Potremmo menzionare a proposito un altro esempio biblico riguardante Mosè che si trova sul monte Sinai, intercedendo per il popolo che sta adorando il vitello d'oro. E Dio gli dice io distruggerò questo popolo e ne sceglierò un altro del quale tu, Mosè, sarai il capo. E Mosè gli risponde signore se tu distruggerai questo popolo cancella il mio nome dal tuo libro. Questo significa che il libro al singolare contiene nomi mentre i libri al plurale contengono la fotocopia delle nostre vite. Dal momento stesso in cui nasciamo siamo scritti all'interno di questo libro e solo dopo Dio preserva i registri della nostra vita. Ora, avendo compreso quello che contengono i libri e quello che contiene il libro, possiamo iniziare a comprendere meglio il concetto biblico di giudizio che si sta realizzando proprio ora nel cielo. Andiamo alla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 10, seconda lettera ai Corinzi, 5, 10. È un testo che abbiamo già letto ieri sera. Ci dice noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Pensate che qui ci sta dicendo che dovremo comparire di fronte al tribunale di Cristo per rispondere di tutto quello che abbiamo fatto con il nostro corpo, cioè nella nostra attuale esistenza. Per questo il Signore deve tenere con sé un registro con gli atti della nostra vita per vedere se poi saremo ricompensati in base al fatto che le nostre opere furono buone o furono malvage. Ma come abbiamo già visto questo giudizio inizia nel cielo, prima della venuta di Cristo. Daniele 7, che abbiamo visto ieri sera, ci dice che l'antico di giorni entrò nel luogo santissimo del santuario, si sedette e i libri si aprirono. Poi ci dice che arrivò Gesù e si avvicinò all'uomo anziano per svolgere la sua opera di giudizio. Ciò significa che il giudizio avviene in cielo e non sulla terra, e che questo giudizio avviene prima della seconda venuta del nostro Signor Gesù Cristo. Ora voglio fare riferimento al caso di Adamo, affinché possiamo comprendere meglio questo argomento. Adamo, secondo quanto ci dice la Bibbia, morì quando aveva 930 anni. Lo potete vedere in Genesi 5. Ciò vuol dire che Adamo è rimasto morto per 5.000 anni, qualcosa più di 5.000 anni. Allora io vi voglio chiedere, dove si trova oggi Adamo? Sapete dove si trova Adamo oggi? Adamo si trova nel cielo, attraverso i suoi registri. Ma dove si trova la persona di Adamo? La persona di Adamo è ritornata a, è ritornata ad essere polvere, come dice la Bibbia. Cioè, Adamo, la sua persona è morto. Ma il registro della sua vita, con tutti i dettagli, senza che manchi nulla, è scritto nel cielo. Ora ascoltate bene quello che vi sto per dire. Secondo il Gran Conflitto, teoria che si può rinforzare tramite la Bibbia, il primo essere a venire giudicato nel 1844 fu Adamo. Perché Dio compie il giudizio iniziando con i morti e lo fa in ordine cronologico. Meno male che non lo fa in ordine alfabetico. Specialmente se uno ha il cognome Sigler, perché in quel caso avrebbe problemi. Sì, se è Sigler andrebbe ancora bene, perché è fra gli ultimi. Ma se uno avesse un cognome come il mio, Bor, vorrebbe dire che Dio dovrebbe giudicarmi fra i primi. Ma Dio non lo fa, perché Dio non segue l'ordine alfabetico. Dio segue un ordine cronologico rispetto a quando abbiamo vissuto. Dice, iniziando con quelli che per primi vissero sulla terra. In questo modo inizia il giudizio. Quindi il primo ad essere giudicato nel 1844 chi fu? Fu Adamo, perché fu il primo essere vivente. Ora io vi chiedo dove si trovava Adamo nel 1844? Si trovava nel sepolcro. E allora Adamo quando riceve la sua ricompensa? In Apocalisse 22,12 Gesù dice, ecco, io vengo presto e il mio cosa? Il mio premio è con me. Gesù porta il suo premio con sé. Ora io non so se notate anche voi il problema. Adamo morì 5.000 anni fa. Egli non riceverà la sua ricompensa fino a quando non sarà ritornato Gesù. Ma fu il primo a presentarsi al giudizio nel 1844. La domanda è, come ha potuto Adamo presentarsi di fronte al gran tribunale di Cristo nel 1844 se non riceve la sua ricompensa fino a quando Cristo non sarà ritornato? Se non resuscita prima della venuta di Cristo? Come ha potuto comparire nel giudizio? La risposta è molto semplice. Adamo comparve nel cielo tramite cosa? Tramite i suoi registri. Ciò vuol dire che Adamo non è dovuto andare nel 1844 in cielo e questa è la ragione per la quale Dio ha i nomi in un libro e le azioni della vita in un altro. Lasciatemi drammatizzare un po' quello che successe nel 1844 quando Gesù entrò nel luogo santissimo e cominciò a giudicare i morti. Prese con sé i libri dove sono scritti i nomi delle persone dal momento della loro nascita e adesso Dio dice Adamo presentati dinanzi al giudizio ma Adamo dove si trova? Adamo è polvere. Non si può arrecare al giudizio fin tanto che non venga Gesù. Come fa a presentarsi? Dunque gli angeli portano cosa? I libri, i registri della sua vita. Lui non deve arrecarsi personalmente. Lui si presenta attraverso la fotocopia esatta della propria vita. Quello che viene esaminato in parole povere è il registro della sua vita perché lui non compare lì personalmente. E come abbiamo visto ieri i morti si trovano nel sepolcro fino a quando Cristo non verrà a ricompensarli. Questo significa che prima della seconda venuta di Cristo in cielo non appaiono fisicamente perché si trovano nei sepolcri ma si presentano Dio attraverso i loro registri. La Bibbia ci dice che quando verrà Gesù i morti in lui ressusciteranno. Quelli che sono vivi insieme a loro verranno rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ciò vuol dire che i giusti non vanno in cielo nel momento della morte ma vengono giudicati prima della seconda venuta attraverso i registri che parlano di loro. Permettetemi che vi faccia un esempio per poter comprendere meglio il concetto. Esiste un vecchio film sull'assassinio di John Frigero Kennedy. Avete visto mai questo film? O giusto quei pochi secondi dove John Kennedy viene assassinato? Sapete che recentemente questa parte di film è stata venduta per 2 milioni di dollari? Incredibile! Quello che io vi voglio chiedere è quando voi in televisione vedete questa parte di film della limousine che gira l'angolo. Scende per la strada e quindi si sente lo sparo e la testa del presidente Kennedy cade all'indietro. Quando voi guardate questa scena del film in quel momento Kennedy è vivo o è morto? Capite la mia domanda? è vivo o è morto? Ogni volta che faccio questa domanda alcuni mi rispondono che è vivo e altri che è morto. Perché quando voi state guardando il film Kennedy è morto. Ma quando avvenne il fatto Kennedy era cosa? Vivo! E così succede con Dio. Dio ha con sé, potremmo dire, un film della mia vita con dentro tutto quanto. Nel 1844 Dio prende il film anche se io sono morto. Dio prende il film e con gli altri esseri celesti Dio guarda il film con la vita del pastore Bor. In questo film è presente quello che ho fatto mentre ero vivo, ma lo guarda dopo la mia morte. State capendo quello che voglio dire? Non appaio direttamente con la mia persona, ma appaio attraverso i registri. E sapete che la parola spirito nella Bibbia non si riferisce solamente al respiro, ma la parola spirito si riferisce anche alla nostra identità personale, il registro della nostra vita che Dio ha da parte fino al momento della mia morte. Quello che rientra a Dio non è soltanto il mio respiro, ma ciò che ritorna a Dio è tutto il registro della mia vita. Dio chiude il libro della mia biografia. Ora qualcuno dirà, pastore, come fa a sapere tutto ciò? Voglio leggere a tal proposito alcune citazioni bibliche. Atti capitolo 8 versetto 55. Anzi no, chiedo scusa, Luca e poi andiamo in Atti, Luca capitolo 8 versetto 55. Voglio che notiate qualcosa di interessante qui, ma devo anche dirvi che avendo appena compiuto 53 anni, a volte mi manca un po' di vista e leggo male, perciò se leggo male per favore correggetemi. Luca 8 versetto 55 sta parlando della resurrezione della figlia di Jairo. E guardate cosa dice. Iniziamo dal versetto 52 per capire il contesto. Dice, or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei. Ma egli disse, non piangete, ella non è morta ma dorme. Ed essi lo deridevano, sapendo che era morta. Ma egli dopo aver messo tutti fuori, le prese la mano ed esclamò dicendo, fanciulla, alzati. E adesso ascoltate questo, ascoltate con attenzione. E il suo spirito ritornò. E questo è quello che dice? Dice questo? E il suo spirito ritornò in lei e subito ella si alzò. Gesù poi comandò che le si desse da mangiare. Non dice lo spirito ritornò. Dice, ma il suo spirito rientrò in lei. Quello che apparteneva a lei. Ora voglio chiedervi questo. Quando Dio ridiede il respiro a questa bambina e lei si svegliò, credete che si ricordava dei suoi genitori? Credete che si ricordava dei suoi genitori? Certamente. Di più. Lo scritto ci dice che quando lei morì aveva fame, cosicché la prima cosa che fecero quando si risvegliò fu di darle da mangiare. In pratica si svegliò con l'appetito che aveva quando morì. E allora che cosa ridiede Dio a questa bambina? Solo il respiro? No. Le ridiede il respiro con il registro di tutta la sua vita insieme al respiro, in modo tale che lei riebbe la sua identità personale. Credete che si ricordava delle sue amiche con le quali giocava? Ovviamente sì. Credete che si ricordava tutti i dettagli della sua vita realizzatisi prima di quel giorno? Ovviamente sì. Perché quando Dio gli ritornò il respiro, gli ridiede anche il registro completo con la sua vita. Come a dire che lei ressuscitò in quanto lei? Essendo lei stessa in persona. Ora andiamo a vedere Atti degli Apostoli, capitolo 7, versetto 56. Atti, capitolo 7, versetto 56. Qui sta parlando di Stefano, del martirio di Stefano. Dice infatti il versetto 56. E disse, ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma essi, mandando alte grida, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città lo lapidarono. E i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. Così lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva, Signor Gesù, ricevi il mio spirito. Cosa sta dicendo Stefano? Ricevi lo spirito? No! Sta dicendo, accogli che cosa? Accogli il mio spirito. Cosa dice Stefano? Abbi cura del mio respiro? No! Stefano sta dicendo, abbi cura della mia identità personale. Conserva tutti i dettagli che si riferiscono a me. Conserva il registro della mia vita. Perché Stefano un giorno resusciterà e quando Stefano resusciterà, il Signore gli ridarà non soltanto il fiato, ma anche la sua identità personale. Stefano ritorna Stefano e quindi riconoscerà Saulo, ricorderà gli eventi che accaddero nella sua vita, perché Dio glieli ridà, anche se ora è polvere. Stefano ora è polvere. Dio rifarà il suo corpo e gli ridarà il suo respiro e la memoria di tutto quello che ha fatto in vita. Gli ridarà il registro completo e totale della sua vita. Parliamo ora un attimo di Gesù. Luca 23, versetto 46. San Luca, capitolo 23, versetto 46. Sta parlando della morte di Cristo. E fate attenzione a quanto sia interessante quello che Gesù sta dicendo a suo padre sulla croce. Dice in Luca 23, versetto 46. E Gesù, gridando con gran voce, disse, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito. È questo quello che dice? No. Gesù dice, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Domanda. Quando Gesù risuscitò, riconobbe i discepoli? Certamente sì. E si ricordò degli eventi della sua vita insieme ai discepoli? Certamente. Ha riavuto Gesù la sua precisa identità che ebbe durante la sua vita e che gli fu ridata al momento della sua risurrezione? Ovviamente sì. Dio infatti non gli ridiede solamente il respiro, ma gli ritornò il registro della vita, la sua identità personale. Ora, avendo letto questi passi della Bibbia, vi voglio leggere un paio di citazioni tratte dagli scritti di Ellen White. L'anziana, che con due anni e mezzo di educazione elementare, comprese ciò che io vi sto dicendo questa mattina. Non credete che questa sia una mia speculazione? La Bibbia e lo spirito di profezia insieme rafforzano questa teoria. La prima citazione che vi voglio leggere, e sono due, non troppo lunghe, si trova nel commentario biblico avventista, volume 6, pagina 1092-1093. Ascoltate la profondità di questo concetto. Io sto utilizzando qui una mia traduzione. Qui ci dice, la nostra identità personale con la resurrezione viene preservata. Cosa viene preservata con la resurrezione? La nostra cosa? La nostra identità personale viene preservata con la resurrezione. Anche se dalla tomba non ritorneranno le stesse particelle di materia, cioè Dio non deve riscattare ogni particella di materia per resuscitarci, Egli può utilizzare altra materia. Continuo dicendo, adesso ascoltate bene, l'opera sorprendente di Dio è mistero per l'uomo. Lo spirito e il carattere dell'uomo ritornano a Dio che li conserva. Avete capito? Cosa ritorna a Dio? Lo spirito che viene identificato con il carattere. Lo spirito e il carattere dell'uomo ritornano a Dio che li conserva. Nella resurrezione ogni uomo riavrà il suo carattere. A tempo debito Dio chiamerà i morti e ridarà loro l'alito di vita e darà ordine alle ossa prosciugate di riprendere vita. Riprenderà la stessa forma, ma libera di malattie e tutti i suoi difetti. Ritornerà a vivere, conservando i propri tratti individuali, in modo tale che gli amici lo riconosceranno. Non c'è alcuna legge di Dio in natura che indica come Dio debba riunire le stesse particelle di materia che hanno composto il corpo prima della sua morte. Dio darà ai giusti che sono morti un corpo conforme a quello che piacerà a lui. Ciò significa che Dio ridà a ogni essere umano il suo carattere. Per questo diciamo che l'unica cosa che ci portiamo in cielo è cosa? Il nostro carattere. La nostra identità personale. Chi siamo stati in vita. Ora però abbiamo un problemino. Quanti di voi hanno qualcosa del proprio carattere che non gli piacerebbe portare con sé? Ne avete? Qualcosa che avete fatto ma che preferireste che Dio non ve le ridesse? Io ne ho molte. E cosa succede con tutto ciò se Dio ci ritorna esattamente tutto quello che siamo stati quando eravamo in vita? Che succede con le cose cattive che abbiamo fatto? Con i tratti più abbiatti del nostro carattere? Mettete da parte questa domanda perché ne parleremo alla fine. La seconda citazione che desidero condividere con voi la troviamo nel Gran Conflitto 7 22. Qui sta parlando degli empi rimasti fuori dalla Santa Città, dalla Nuova Gerusalemme. Parla della loro resurrezione. Fate attenzione a ciò che è scritto. Lì ci sono re e generali che hanno conquistato nazioni. Uomini valorosi che non hanno mai perso una battaglia. Guerrieri superbi e ambiziosi la cui discesa faceva tremare i regni. La morte non li cambiò. Al momento in cui uscirono dalla tomba ripresero i loro pensieri nel punto esatto dove li lasciarono. Si risvegliano animati dallo stesso spirito di conquista che li dominava quando morirono. Immaginatevi, qui dice che ripresero i loro pensieri dove li lasciarono, nel punto esatto dove li lasciarono al momento della loro morte. Questo significa che se un individuo stava aprendo la bocca per pronunciare una parola blasfema e mentre aveva la bocca aperta una freccia lo attraversò, nel momento del risveglio egli finirà questa parola. Perché i pensieri riprendono nel momento esatto nei quali essi cessarono. Significa che Dio gli ridà il registro della sua vita fino al momento esatto in cui egli stava morendo. E questo è lo spirito, il carattere che Dio ridà all'uomo ed è proprio ciò che viene esaminato nei cieli. Allora io vi richiedo, avete qualcosa nel vostro carattere che non vi piacerebbe che Dio vi ridesse? Io ne ho molte. E cosa succede con queste cose? Cosa succede a chi è morto con Cristo? Dio ritorna loro anche queste cose negative dei loro caratteri? Vi ho lasciato per ultimo le notizie più belle. Possiamo comprendere quest'ultimo argomento che vi ho appena menzionato solamente guardandolo dalla prospettiva del santuario. Ascoltate bene quello che sto per dirvi. Ve lo riassumo brevemente. La Bibbia insegna che quando confessiamo i nostri peccati, Dio, in quanto fedele e giusto, ci perdona i nostri peccati. Ma questi peccati non vengono cancellati dal santuario. Questi atti vengono scritti nei registri e così ciò che hai fatto in vita, queste azioni malvagie, questi sentimenti, Dio registra tutto nei suoi libri. Ma vicino al peccato mette una notazione, perdonato attraverso il sangue di Cristo. Perché quella persona si è pentita dei propri peccati, perdonato e lo annota lì. Quindi la nostra preoccupazione maggiore deve essere di collocare i peccati nel santuario, di confessarli perché in tal modo Dio mi perdona e io posso tornare felice a casa con la sicurezza del perdono. Ma il peccato è registrato nei libri celesti perché quando uscirà il mio nome nel giudizio ecco che Satana accuserà dicendo, ecco vedi il pastore ha fatto questo e questo e questo, ma il Signore risponderà a Satana così, io? Non nego che il pastore Bora abbia fatto tutte queste cose, ma a fianco a tutto ciò esiste un'annotazione che dice, perdonato attraverso il sangue dell'agnello. Perché con la grazia del Signore confessò il suo peccato, fu perdonato e con il potere dello Spirito Santo vinse il peccato. E cosa fa Dio una volta che esce il mio nome e tutti i peccati sono stati confessati. Tutti i peccati sono stati perdonati e ora questi peccati vengono cancellati dal registro. In maniera tale che quando Dio mi riconsegnerà il mio carattere, quando mi riderà la mia identità personale, mi riderà quello che io fui nella mia vita, meno quello che fu cancellato al momento del giudizio, che io confessai e che con la grazia di Dio sconfissi. Non è questa una buona notizia? Dio mi ridà il registro, meno i peccati che sono stati in tal modo cancellati e puliti dal sangue dell'agnello. Gloria a Dio. Voglio finire questa mattina con un'illustrazione grazie alla quale ricorderete tutto ciò di cui abbiamo parlato. Non lo dimenticherete mai. Il concetto che ho condiviso con voi lo ricorderete per sempre grazie all'immagine che vi sto per dare. Voglio paragonare l'uomo a un computer. Parliamo perciò un attimo del computer. Un computer ha la sua componente materiale, come è logico, con le sue plastiche, i suoi circuiti, eccetera. Il computer possiede però anche un cervello che svolge tutte le operazioni del computer. Ma voi potete avere un computer perfetto che svolge tutte le sue funzioni, però voi dovete collegare questo computer, dovete dare energia a questo computer, altrimenti questo non funzionerà. Così il computer fisico con il suo cervello, per rendere l'idea? Se viene alimentato con energia elettrica, allora sì che il computer funziona. La stessa cosa vale per l'essere umano, che è costituito materialmente, fisicamente da polvere, e che Dio, per così dire, collegò l'uomo, gli diede la sua energia elettrica, così come per il computer. L'uomo iniziò a funzionare. Ora, quando voi avete un computer, cominciate a programmare le informazioni, inserendo software, scaricando informazioni da internet, gli date informazioni digitando. Insomma, iniziate a immettere informazioni a questo computer, e mentre lo fate, questo computer prende l'identità che gli state dando. In pratica, se comprate un computer oggi, questo non sarà lo stesso da qui a un anno, perché oggi iniziate a inserire informazioni, e le inserite voi, perché è il vostro computer personale. Ora, mettiamo caso che un giorno ci sia un'esplosione, e voi non siete in casa. E questo computer si trova in casa al momento dell'esplosione, e il computer si disintegri in un milione di pezzi. Cosa succede a ciò che si trovava nel computer? Che disastro, diremmo, abbiamo perso tutto, perché adesso il computer non ha energia, il computer si è disintegrato. Succede la stessa cosa agli esseri umani quando si muore. L'energia elettrica non c'è più e il corpo si disintegra. Ma è per questa ragione che esistono i floppy disk, o come si chiamano oggi. E mentre voi state lavorando sul computer e vi inserite informazioni, mettete da parte quello che state facendo tramite i dischetti. Conservate l'identità del computer, per così dire, nei dischetti. Perché sapete che un giorno o l'altro potrebbe accadere qualcosa al computer, e perdereste tutto, e allora mano a mano che inserite le informazioni, trasferite tutte queste informazioni in un luogo sicuro all'interno dei dischetti. In questo modo, quando si stacca la corrente al computer, o questo si disintegra, si distrugge, voi potrete dire, non c'è alcun problema, perché ho l'identità del computer dentro i dischetti. Vi chiedo, potete comprare un nuovo computer? Andare in magazzino e comprare un computer anche più potente? Per poi inserirvi i dischetti con tutte le informazioni che vi erano raccolte nel primo pc? Certo che sì! In pratica, le informazioni che avevate nel primo pc si possono trasferire nel secondo, in modo tale che il secondo computer abbia l'identità personale del primo. La stessa cosa fa Dio con noi. Dio sa che un giorno, a meno che lui non venga mentre siamo ancora in vita, torniamo polvere, ci disintegreremo, rimarremo senza l'alimentazione data dalla corrente elettrica di Dio. Ma Dio mette da parte la nostra identità in dischetti, perché un giorno lui ritornerà e ci risusciterà e darà un corpo molto migliore rispetto a quello che già avevamo. E ci ridarà le informazioni che lui ha conservato nei suoi libri, ci ridarà il carattere o meglio la nostra identità personale. Durante il giudizio finale cosa fa Dio? Bene, pastore Bohr, porti i floppy disk. Sto sceneggiando per potervelo far capire meglio. E gli esseri celesti vedono tutta la vita del pastore Bohr dai dischetti e compaiono tutti i peccati all'interno di quei dischetti, ma peccati che sono stati confessati e perdonati. E sapete cosa fa Dio mentre scorrono i miei peccati assieme al mio nome? C'è un pulsantino con scritto cancellare. E pertanto Dio adesso, mentre scorrono i miei peccati che per la sua infinita grazia sono stati perdonati, Dio cosa fa? Li cancella, in modo tale che quando mi ridà l'identità presente nei dischetti mi ritornerà tutto quello che fu in vita, meno tutti quei peccati che con la grazia di Dio sono stati perdonati e vinti durante la vita. Per questa ragione il primo angelo dice, temete Dio e dategli gloria e adoratelo perché è giunta l'ora del suo giudizio. È giunta l'ora di esaminare la tua vita. È giunta l'ora di esaminare i tuoi dischetti. E Dio vuole che superiamo il giudizio da vincitori. Per questo motivo ci dà le condizioni con le quali possiamo superare vittoriosamente il giudizio. Accettando il Vangelo della salvezza eterna attraverso Gesù, manifestandola nelle nostre vite e con le nostre opere, temendo Dio e rendendogli gloria e adorando colui il quale fece la terra, il mare, il cielo e le sorgenti d'acqua. Ragazzi e ragazze, l'unica cosa che portiamo con noi in cielo è il nostro carattere. Che Dio ci aiuti a formare un carattere a completa somiglianza di quello di Gesù. Perciò, se hai un peccato da ispiare, confessalo. Chiedi al Signore di riuscire a vincere questo peccato, in modo tale che nel tuo dischetto, che è lì nel cielo, si possa scrivere accanto perdonato. E quando questo nome e questo peccato comparirà nel giudizio, Dio possa dire, cancellate questo peccato, cancellate questa cattiva intenzione, questo pensiero malvagio, queste brutte parole, questo brutto sentimento, cancellatelo, perché è stato perdonato dal sangue dell'agnello. Che salvatore meraviglioso abbiamo! Voglio chiedervi ora, quanti di voi desiderano chiedere a Gesù, Signore Gesù ti consegno i miei peccati, te li consegno, perdonami per aver peccato contro di te. E Signore, oltre a ciò dammi il tuo Spirito Santo, affinché attraverso il tuo potere io possa temerti e glorificarti e adorarti in questo tempo del giudizio divino. Volete che faccia una preghiera per chiedere ciò a Dio? Il perdono, la purificazione e la purezza nelle nostre vite. Preghiamo! Padre Celestiale, ti rendiamo grazie perché nonostante dobbiamo confrontarci con il tuo giudizio, possiamo farlo con la completa certezza che Cristo è il nostro rappresentante. O Signore, qui davanti a te si trova oggi questa meravigliosa gioventù, il personale docente e i membri della comunità. E in questi momenti sappiamo che stai giudicando i morti e presto passerai ai vivi, non sappiamo quando, ma presto. Sarà un momento solenne quando ci presenteremo davanti al Tribunale Supremo attraverso i nostri registri. O Signore, ti chiedo di stare al fianco di ogni giovane, di ogni ragazzo, di ogni ragazza della comunità, di ogni membro del personale docente. Signore, cancella i nostri peccati, fai che possiamo vincere i nostri peccati. in modo tale da poterci presentare dinanzi al giudizio senza macchia, né ruga, né altro di simile. Grazie Signore per la sicurezza nel sapere che ci ridarai le nostre identità quando moriremo. Per essere figli tuoi, non soltanto durante questa vita di sofferenze, bensì anche durante i secoli dell'eternità. Ti rendiamo grazie per il privilegio che ci dai di avvicinarci al tuo trono con questa preghiera. E grazie per ascoltarci perché te lo chiediamo nel magnifico nome di Gesù. Amen. Grazie a tutti.